Certamente il tema della condivisione dei dati sanitari è particolarmente rilevante direi per due motivi, da un lato ci sono dei benefici che poi intervengono in tutte le varie fasi, dalla scoperta di nuovi farmaci, nuove molecole fino ai servizi rivolti al cittadino e al paziente e dall'altro c'è però un tema di frammentazione, dall'altro il modo in cui è strutturato il settore è molto frammentato a livello istituzionale, noi abbiamo un sistema sanitario nazionale basato sulle regioni e anche all'interno delle regioni spesso questa condivisione è un po' complicata e in parte deriva anche da esigenze di privacy per altri, però sono tutte cose che possono essere superate nella giusta maniera proprio per arrivare a questi benefici significativi. Il perno però di tutto questo è la corretta condivisione dei dati sanitari senza i quali, ovviamente questo beneficio non può esserci.